Siamo con Mr. Tiranti, un punto in casa della seconda in classifica. Avrebbe messo la firma all'inizio del match? No, io non metto mai la firma per niente, perché le partite bisogna giocarle tutte. Sapevo che questa è una buona squadra, ma noi stiamo giocando bene e purtroppo raccogliamo poco. Squadra molto propositiva a inizio gara, poi soprattutto nella ripresa avete avuto un atteggiamento più prudente. Gliel'ha chiesto lei ai ragazzi nel corso dell'intervallo? No, noi avevamo due o tre assenze importanti, gente che aveva pochi minuti in campo, però secondo me sono stati i migliori in campo perché la voglia ha prevalso sulla qualità. Siamo con Mr. Mariotti, serviva un immediato riscatto tra le Muramiche dopo il K.O. contro la Sanzustese. Riscatto che probabilmente non è del tutto arrivato, perché forse quest'oggi si poteva fare di più. Sicuramente si poteva fare di più, però abbiamo affrontato una squadra, abbiamo messo in campo, che ci ha chiuso gli spazi, ci ha chiuso le nostre giocate, però sinceramente ci abbiamo provato, ci abbiamo provato fino alla fine di riuscire a vincere questa partita. Avevo chiesto ai ragazzi una prova di riscatto dopo la sconfitta di Montesangusto, però a volte ci sono anche gli avversari, gli avversari sono stati bravi a chiuderci, come ho detto prima, a quello che sono le nostre giocate. C'è mancato un pochino di cattivere negli ultimi 30 metri e quella bisogna allenarla un pochino meglio, sinceramente. Poi siamo arrivati diverse volte sul fondo, abbiamo sbagliato anche questo famoso cross per buttarla dentro. Qualcosa ci è mancato, però ripeto abbiamo incontrato anche una squadra che si è chiusa bene, poi ha provato a giocare, ha provato a vincere anche loro. Credo che sia stato tutto sommato anche una buona partita. Squadra che ha subito solo due reti nelle prime sette di campionato, qual è il segreto di questo trend? Non c'è nessun segreto se non che sono un po' arrabbiato, perché sinceramente adesso al di là non voglio passare per presuntuoso. Abbiamo beccato un gol su palla inattiva domenica a Montesangusto e ci è costata la partita. Oggi abbiamo preso un gol sinceramente sull'inserimento di un giocatore che va seguito indipendentemente da chi sia, se è il mio uomo o non è il mio uomo, quel giocatore va seguito e poi bisogna stare un attimo un pochino più attenti poi con questa palla che va in mezzo. Quindi è l'attenzione, quella che cerco di allenare durante la settimana, l'attenzione e oggi ci è costato il gol che abbiamo subito. Dobbiamo migliorare, adesso lavoreremo anche su questo, oltre sulla fase offensiva anche sulla fase difensiva. Segreti non ce ne sono, se non è un centrocampo che riesce a fare un filtro un po' forte sulla mia difesa. Grazie a tutti!